Hello everybody, oggi è un giorno veramente pieno di cose da fare e stamattina dobbiamo andare a casa di nostra amica che domani fa il compleanno ma festeggi oggi e ho finitato un bellissimo brunch non sono mai stata un brunch, è la mia prima volta sei pronto per il brunch? grande non ci crederete mai, ho aperto lo yogurt così, quella è pulita siamo sopravvissuti al brunch mi hai visto che sono due giorni che mi insulta perché ha le sue cose voi insultate i vostri ragazzi quando è così non ho le mie cose e adesso andiamo al mare, andiamo sotto l'ombrellone il nostro nido d'amore la vostra pilota di fiducia adesso va piano piano, però tra un po' ci avrò paura della vita Elissa ha acceso il motore sto riscaldando posso andare? Ciao 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 Grazie per la visione!